Alla fine di un lunghissimo dibattito che ha tenuto impegnato il Consiglio regionale sino a notte, la Sise ha votato a maggioranza una mozione che impegna il Presidente della Regione Toma a chiedere ai Ministeri di Economia e Salute di sospendere la valutazione del piano operativo sanitario ad essi inviato dal Commissario ad Acta. A costruire la mediazione che ha ricompattato la maggioranza, unico astenuto per ragioni di opportunità Toma, è stato l'assessore regionale Quintino Pallante, una versione adottata che ricalca in buona parte il dispositivo della mozione come primo firmatario Iorio, soddisfatto l'ex governatore. Bisogna aprire un confronto in Consiglio regionale sul documento, il Presidente della Regione deve comunicare ai Ministeri competenti a Roma che il post è sospeso, deve essere sospeso in quanto ancora carente del confronto con il Consiglio regionale, con gli enti e le istituzioni che vogliono intervenire dando dei suggerimenti. Abbiamo sostanzialmente vinto la battaglia coloro che hanno sempre pensato che quel documento inviato a Roma era un grave errore perché non era stato concordato e non si era confrontato il Presidente con nessuno. Posizione terza quella del PD che ha lasciato l'aula e non ha appoggiato nessuna delle due mozioni inizialmente presentate da 5 Stelle e Iorio, Micone, Romagnuolo e Cefaratti. Le mozioni non servono più a niente, l'abbiamo visto in questo Consiglio regionale, cito l'ultima che abbiamo approvato in materia energetica all'unanimità per alleggerire le bollette delle famiglie, era una proposta a cui tenevo moltissimo, è rimasta in un cassetto e per quello che non serve approvare emozioni era utile ed è utile una legge che rimuova le incompatibilità di Toma per bloccare un POS che danneggia pesantemente la sanità. Per i 5 Stelle si è invece eluso quello che a loro giudizio è il tema centrale della questione sanità, ovvero l'extra budget, nei confronti dei privati accreditati. E' venuta fuori l'unione del centrodestra su un tema importantissimo, sul tema cruciale, che per noi non è una battaglia personale ma una battaglia di giustizia per ridare una sanità di qualità ai molisani, ovvero quello dell'extra budget sui privati accreditati. Su questo tema il centrodestra ha ritrovato unione, ieri attraverso una serie di passaggi, di mozioni, contromozioni, hanno smentito se stessi dopo che avevano firmato un documento insieme a noi e sostanzialmente si è capito ancora una volta che in questa regione il Movimento 5 Stelle si batte per tutelare gli interessi dei cittadini. Il centrodestra evidentemente qui dentro si batte peraltro.